Musica 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 I'm not a hero, in reality, I'm just a child who's talking about the truth, about the reality of the real situation happening in Manipar. You see, I can't bring change by myself. Abbiamo Aggiore con il amore e ci sono qualcosa che ti interessa. Inolio! Abbiamo di portare, noi né vogliono? Inolio! Abbiamo di cambiare le 우리는 davvero di ero, si vogliamo, ovviamente, che sono veramente appreciate e noi non so SB, anche un amore che uno è sempre Abbiamo attiene diverse i ragazzi costruite il podere, Grazie a tutti i nostri spettatori.